La guarigione attraverso la respirazione e il sole di Peter Deunov, traduzione ed edizione audiolibro 2023 di David De Angelis, narrato da Stefano Trillini. Tutti i diritti sono riservati. L'aria è depositaria dell'energia divina, è la più grande riserva nella quale la vita ha immagazzinato le proprie energie. Da prima l'aria, portatrice di pensieri divini, passa nel sistema respiratorio, dove si trasforma e da lì si dirige verso il cervello attraverso il sangue. Dunque l'uomo non riceve i pensieri divini direttamente dal cervello, è l'aria che ne è la principale portatrice. Nelle attuali condizioni di vita, se l'uomo viene privato dell'aria, non potrà captare alcun pensiero. In questo senso la respirazione è un atto sacro. È per questo che bisogna imparare a respirare bene per poter captare i pensieri divini contenuti nell'aria e trasmetterli poi al cervello. Ogni energia divina che discende deve passare dapprima attraverso il sistema respiratorio e da lì risalire nel cervello per poi discendere nel cuore. La respirazione di ognuno è diversa e corrisponde al grado di evoluzione dell'uomo. Di solito il malato respira rapidamente, come gli animali, mentre l'uomo in buona salute respira regolarmente, con calma e in funzione del suo sviluppo personale. Qualsiasi sia la malattia di cui soffrite, cercate l'aiuto nella respirazione profonda. Non esistono malattie che non si possano guarire attraverso la respirazione. Una vita lunga è il risultato di una respirazione profonda e regolare. La respirazione stessa dipende dal pensiero giusto, positivo e dalla qualità delle emozioni. Respirate profondamente e pensate che la benedizione divina perviene all'uomo attraverso l'aria. La respirazione è un processo duplice, fisiologico e psicologico. Il suo obiettivo finale, in quanto processo psicologico, è la purificazione del pensiero. I polmoni rappresentano un laboratorio complicato all'interno del quale si congiungono energie multiple. Il prana dell'aria penetra nei polmoni e aiuta l'ozonizzazione del sangue, anche là dove l'aria arriva difficilmente. Nel sangue così purificato, sono deposti degli elementi della vita. Poiché l'aria contiene della luce e del prana, quando respira, l'uomo riceve questi due elementi indispensabili al sangue. Oltre allo stomaco, l'uomo si nutre attraverso i polmoni e il cervello dove riceve una nutrizione superiore alla nutrizione fisica. Nell'avvenire, l'essere umano si nutrirà solamente attraverso i polmoni e il cervello. Quando l'uomo si ammala, la sua respirazione si accelera. Si osserva questo fatto soprattutto nelle persone in cui la costituzione polmonare è debole. Esse accelerano coscientemente la loro respirazione carente, credendo in questo modo di aiutarsi. In realtà il loro stato si aggrava ancora di più. La respirazione normale deve corrispondere al ritmo naturale, al ritmo cardiaco. È questo ritmo che va bene per la salute. La buona respirazione dipende dalla qualità dell'aria assorbita e dal tempo che si trattiene. Più a lungo l'aria viene trattenuta nei polmoni, più è efficace. La riuscita delle imprese di ognuno dipende anche da questo. Certi adepti sono arrivati al punto di trattenere l'aria per mezz'ora ed anche un'ora. Coloro che hanno perduto il loro equilibrio respirano in maniera troppo veloce. Quando la respirazione è rapida, il sangue si ossigena molto velocemente e la sua epurazione è parziale. È per questo che la maggior parte delle persone hanno più sangue venoso, vale a dire sangue impuro. A causa di questa ossigenazione troppo rapida, la combustione nell'organismo si fa in modo irregolare. Una parte dei materiali che sono destinati ad esso non possono essere bruciati ed essi si accumulano nelle arterie e le vene sotto forma di residui. Oltre i polmoni, che hanno un rapporto diretto con l'aria, l'uomo possiede 7 milioni di pori attraverso i quali è legato ad essa. Se l'uomo non respira bene, la pelle del suo viso e delle mani invecchiano prematuramente. Le rughe sono dovute ad uno squilibrio del fegato e alla cattiva respirazione. La concentrazione del pensiero è in rapporto con la respirazione. Più l'uomo respira profondamente, più facilmente egli si concentra. Per ogni uomo esistono dei metodi di respirazione particolari. Ognuno può scegliere quelli che gli convengono, consigliati dal proprio maestro o dal proprio medico interiore. Imparate ad ascoltare il vostro medico interiore, vale a dire il divino che abita dentro di voi. Ora, quando parlo di respirazione profonda, non ho l'intenzione di raccomandarvi degli esercizi speciali come fanno gli hindu, poiché non sono applicabili agli europei. Vi dico semplicemente di respirare profondamente, sforzandovi di mantenere un ritmo regolare. Bisogna sapere una cosa. Molte delle regole e metodi hindu non corrispondono alle regole della natura vivente universale. Per esempio, se si applica per noi occidentali la scienza della respirazione utilizzata dagli hindu, i risultati ottenuti saranno contrari e negativi. Perché? Perché essa è stata acquisita durante la discesa dell'umanità, vale a dire conformemente alla legge dell'involuzione. Gli hindu lavorano intensamente sulla respirazione profonda e completa, accumulano così molta energia che gli europei non saprebbero come utilizzare. Alla fine, invece di farsi del bene, si farebbero del male. È detto nelle Sacre Scritture, «E Dio ha soffiato nelle sue narici un soffio di vita e l'uomo è divenuto un essere vivente». Dunque, inspirando l'aria, l'uomo ha ricevuto la vita divina. È per questo che quando si trova in difficoltà deve respirare, poiché l'aria è portatrice di elettricità e di magnetismo, che, passando attraverso il naso, rinnova il sistema nervoso. Attraverso la respirazione potete obbligare il vostro cervello a pensare, giusto, e il vostro stomaco a lavorare normalmente. La respirazione irregolare è alla base di molte malattie. Avete male ai piedi perché non respirate bene, lo stesso per la testa, il cuore o la colonna vertebrale. La respirazione rapida e superficiale è pericolosa, essa porta a diverse malattie. La forza vivificante che guarisce è il prana diffuso nell'aria. Esiste una forza fra l'amore e la vita, è il prana. Esso rinnova il pensiero. Quando respirate, pensate che assorbite il prana da tutte le vostre cellule. Non pensate a vostra moglie, ai vostri figli, a ciò che è di interesse secondario. Lasciate da parte i vostri buoi, le vostre api, la vostra nutrizione, le vostre preoccupazioni quotidiane. Attraverso la concentrazione del vostro pensiero, potete guarire qualsiasi malattia per proteggervi dai malori che vi minacciano. I malanni si muovono come dei proiettili. Spostandovi dalla loro traiettoria anche di poco, passeranno senza colpirvi. Più trattenete l'aria nei vostri polmoni, più ricevete energia. Così, anche inquinata, l'aria non avrà influenza negativa. Quando diminuisce il numero di respirazioni, la vita si prolunga. E viceversa. Se arrivate a una sola respirazione al minuto, avete già acquisito molto. Respirate con gioia, con amore, il viso sorridente, prendete una buona postura. La vostra colonna vertebrale deve formare una linea parallela con quella che unisce il centro del sole al centro della terra, il petto in avanti e non ritirato verso l'interno. Respirando così, vi legate al ritmo della natura e rinforzate i vostri corpi e il vostro spirito. Nei polmoni esistono delle cellule vegetali che hanno bisogno di acido carbonico. La respirazione profonda con ritenzione facilita l'accumulo dell'acido carbonico, rinforza le cellule vegetali e prolunga la loro vita nei polmoni. Se li rende più forti, l'uomo è in buona salute. La salute è legata alla respirazione cosciente ed è per questo che almeno tre volte al giorno, al mattino, a mezzogiorno e alla sera prima di andare a letto, l'uomo deve consacrare da 10 a 15 minuti di respirazione e fare degli esercizi. Deve ringraziare per l'aria assorbita così come per il bene che ha ricevuto da essa. Ed è questa la respirazione cosciente. Respirate profondamente per ricevere il maggior prana possibile virificante. Contiene differenti proprietà, fisiche, emozionali, mentali. Senza prana il pensiero non può formarsi, le emozioni non possono manifestarsi e la volontà non può agire. Ciascuno, conformemente al proprio sviluppo, riceverà ciò di cui ha bisogno ed esprimerà il proprio potenziale. Quando respira, l'uomo deve sentire che l'aria è un bene inestimabile. Attraverso i propri polmoni, l'uomo si lega all'amore. Colui che ama allo stesso tempo dilata i propri polmoni. Quando parlo dei polsi regolari, dibattito ritmico del cuore, sorge immediatamente la domanda qual è una respirazione buona e profonda? Quasi tutti respirano male, si inspira e si espira l'aria solamente con la parte superiore dei polmoni. A causa di questa respirazione superficiale e debole, la forza manca per rigettare completamente l'aria all'esterno. Di conseguenza, una parte dell'aria viziata resta nei polmoni e forma dei residui. Se si vuole regolarizzare la propria circolazione sanguigna, è indispensabile dapprima inspirare profondamente l'aria, trattenerla un certo tempo nei polmoni e poi espellerla lentamente. Quando l'uomo pratica come si deve la respirazione, si rinnova e si libera dagli stati di malattia, sia fisici che psichici. Esiste un prana assimilabile attraverso la narice sinistra e un prana assimilabile attraverso la narice destra. Attraverso la narice sinistra, si riceve la corrente magnetica legata al plesso solare e chiamata corrente solare. Attraverso la narice destra, si riceve la corrente elettrica legata al cervello e chiamata corrente lunare. Quando si vuole sviluppare il proprio intelletto, bisogna inspirare l'aria attraverso la narice destra ed espirare attraverso quella sinistra. Quando si vuole sviluppare il proprio cervello, bisogna ispirare attraverso la narice sinistra ed espirare attraverso quella destra, alternando la respirazione attraverso la narice sinistra, poi attraverso la narice destra, si armonizzano le due correnti e si assimila l'elettricità e il magnetismo in una maniera equilibrata. Così, respirate profondamente e coscientemente. Se siete maldisposti, tristi, respirate profondamente. Se avete male alla colonna vertebrale e alla schiena, respirate profondamente. Avete mali ai piedi e alle mani? Respirate. Mal di stomaco, di testa, mal di ventre? Respirate sempre profondamente. Quando l'uomo non assimila abbastanza il prana attraverso l'aria, si sente debole e angosciato, senza vita e senza forza. Di chi è la colpa? Di se stesso. Ricevere il prana non dipende che da sé, poiché si trova in abbondanza nella natura. Vivendo sulla terra, l'uomo ha bisogno di aria per alimentare il suo doppio eterico e il suo corpo astrale. L'aria contiene questa energia specifica chiamata dagli hindù prana. Certi scienziati la chiamano elettricità vivificante o magnetismo vivificante. Voi andate in montagna non solamente per l'aria pura, come pensa la maggior parte delle persone, ma anche per il prana. Molto presto al mattino, esponendovi al sole, assimilate dei raggi luminosi che apportano del prana per il vostro intelletto e i raggi calorosi che apportano il prana per il vostro cuore. Quanto ai polmoni, è al mattino che essi assimilano il meglio del prana dall'aria. Si osserva che più l'uomo respira profondamente, più trattiene l'aria nei polmoni e più larghe sono le sue narici. Il naso piccolo e piatto mostra che la respirazione e la circolazione sanguigna sono deboli. Se il naso è troppo appuntito, l'uomo è irritabile, nervoso e collerico. Per calmarsi, deve respirare profondamente. Certi hanno paura di respirare l'aria fredda per non raffreddarsi. Se respirate attraverso la bocca, sì, avete ragione di avere paura, ma la natura ha anche previsto questo. Essa ha formato il naso come un filtro che trattiene le impurità e riscalda l'aria. La mucosa e le secrezioni del naso regolarizzano l'aria e l'adattano ai polmoni. Quando uscite con il gran freddo, non assorbite l'aria in un solo colpo, ma a piccole dosi, dolcemente, per adattarvi alla temperatura esterna. Iniziate lentamente con delle piccole respirazioni e aumentate progressivamente la quantità d'aria inspirata. Nella buona respirazione esiste un ritmo regolare da rispettare. Dapprima respirate lentamente, con calma, senza precipitazione, poi trattenete nei polmoni l'aria inspirata. Non esiste benedizione più grande per l'uomo che quella di inspirare lentamente, di trattenere l'aria e ricevere il prana, vale a dire l'energia vivificante che contiene. La respirazione abituale è di circa 15 respirazioni al minuto. Quando fate degli esercizi di respirazione, cercate di arrivare progressivamente a una respirazione completa per un minuto, inspirazione, ritenzione, espirazione. Se ci riuscirete, sarete in grado di guarire tutte le malattie, anche la tubercolosi. Praticate il seguente esercizio. Partendo con le mani piegate sulle spalle, aprite dolcemente le vostre braccia e le vostre mani in orizzontale, inspirando profondamente. Trattenete l'aria e iniziate a discendere le braccia vicino al corpo, espirando lentamente. Così riceverete sufficiente prana, la vostra circolazione sarà stimolata e i vostri capillari si dilateranno. Come discepolo, dovete apprendere a guarirvi con la respirazione profonda. Se avete mal di stomaco o al ventre, fate sei esercizi quattro volte al giorno nel seguente modo. Ponete il palmo della mano sinistra sul ventre, il palmo della mano destra sulla mano sinistra. Respirando profondamente, dovete riuscire a sentire la contrazione e la dilatazione del diaframma. Colui che non sa respirare bene non può essere un discepolo del nuovo insegnamento. È bene respirare all'inizio con la narice sinistra e contare da 10 a 15. Dopo chiudere la narice sinistra, trattenere l'aria nei polmoni da 30 a 40 secondi e poi espirare lentamente con lo stesso ritmo. Quando ispirate con la narice destra, chiudete la sinistra. durante la ritenzione tutte e due sono chiuse. Questi esercizi sono indispensabili per tutti, sia per coloro che sono in buona salute che per gli ammalati, ma soprattutto per coloro che praticano un'attività intellettuale. Respirate con calma, in una maniera ininterrotta e con un ritmo stabile. Per guarirvi, fate da 12 a 19 respirazioni al minuto e prima del pasto di mezzogiorno e la sera. Ogni ispirazione, ritenzione, espirazione è un esercizio. Facendo questi esercizi, il vostro intelletto deve essere concentrato. Il diaframma discende, sale, si contrae e si dilata in un movimento regolare. Il diaframma è la frontiera fra il mondo spirituale e il mondo fisico. Certe cause di palpitazioni, di problemi respiratori, asma, malattie dei polmoni, provengono dallo spostamento del diaframma in rapporto alla sua posizione naturale. Se si trova troppo in alto, il cuore e i polmoni non funzionano bene. Attraverso la pratica degli esercizi respiratori, i polmoni riempiti d'aria spingono il diaframma e lo obbligano a discendere nella sua posizione naturale. Nell'espirazione, i muscoli addominali devono intervenire, essi esercitano una pressione sull'aria e la spingono all'esterno. È bene anche fare degli esercizi respiratori dicendo le preghiere come Padre Nostro o La Buona Preghiera. Respirate lentamente, profondamente, al ritmo stabilito, senza deviazione del pensiero. Colui che non è esercitato nella respirazione deve iniziare a trattenere l'aria due o tre secondi e aumentare progressivamente di un secondo ogni volta fino a 30 secondi. Se si riesce a trattenerla per 30 secondi, si possono risolvere molti problemi di salute come, per esempio, mal di testa, debolezza dei polmoni, problemi di stomaco, paralisi. Tutto ciò scomparirà. Curatevi prima di ammalarvi. Se l'uomo non respira profondamente, nessun medicamento lo potrà aiutare. L'alito e la traspirazione di colui che è riuscito ad avere un'eccellente respirazione sono profumati e la sua circolazione sanguigna è regolare. Qualsiasi sia la vostra malattia, cercate l'aiuto nella respirazione profonda. Non esiste una malattia che non possa essere guarita attraverso la respirazione profonda. Esercizi respiratori 1. Inspirando, portate le vostre braccia molto lentamente lateralmente e in orizzontale. Trattenendo l'aria, prolungate il movimento fino alla verticale. Espirando, passate le mani dietro la testa e fate scendere le braccia fino alla loro posizione iniziale. 2. Inspirando, alzate le braccia lentamente davanti a voi fino al di sopra della testa. Lo sguardo accompagna il movimento. Trattenete l'aria un momento. Espirate lentamente facendo scendere dolcemente le braccia. Lo sguardo segue il movimento fino al basso. 3. Posizione di partenza. Le due braccia sono in orizzontale a ogni lato del corpo, palme aperte verso l'alto. Inspirazione. Inspirate lentamente piegando tutte le dita, pollice sopra il medio. Nello stesso tempo, immaginate che con l'aria ricevete l'amore divino che penetra tutto, compresa l'aria, poiché Dio penetra in tutto, poiché Dio è amore. Ritenzione. Trattenete l'aria il più a lungo possibile pensando che assimilate l'amore che penetra tutta la natura. Durante la ritenzione, ripiegate lentamente le braccia mantenendo le mani ferme e portandole davanti al petto. Espirazione. Piegate lentamente le braccia in ogni lato del corpo fino all'orizzontale, poi aprite lentamente le mani. Durante l'espirazione, pensate che inviate la luce che proviene dal vostro amore al mondo intero. 4. Inspirazione in 16 tempi. Ritenzione su 16 unità di tempo. Espirazione su 32 unità di tempo. Fate questo esercizio tre volte al giorno, il mattino, a mezzogiorno e la sera, sei volte di seguito. L'inspirazione si fa attraverso la narice sinistra e l'espirazione attraverso la narice destra. Praticate questo esercizio per due o tre mesi. 5. Gli esercizi respiratori hanno per obiettivo l'aumento della ritenzione dell'aria. In questo esercizio non ci si serve delle unità di tempo. Bisogna ispirare lentamente e profondamente, trattenere l'aria il più a lungo possibile ed espirare il più lentamente possibile. Il tempo della ritenzione può essere aumentato di un minuto, di un minuto e mezzo, di due minuti, eccetera. 6. Quando siete nervosi, irritati, in collera, fate il seguente esercizio. Con l'indice della mano destra, chiudete la narice destra e inspirate attraverso la narice sinistra, contando 7 unità di tempo. Trattenetela per 10 tempi, poi chiudete la narice sinistra e espirate in 9 tempi. Questo esercizio aiuta a regolarizzare il sistema nervoso, a calmare il cervello e a rinforzare la memoria. Se fate questo esercizio al mattino, prima di mezzogiorno, ispirate attraverso la narice sinistra ed espirate attraverso la destra. La sera, ispirate attraverso la narice destra ed espirate attraverso la sinistra. Fate questo esercizio 21 volte al giorno. 7 al mattino, 7 a mezzogiorno e 7 la sera. Raccomandazioni 1. Durante gli esercizi respiratori potete pronunciare mentalmente certe formule. Esempio, Io ti ringrazio, Signore, con tutto il mio cuore, con tutto il mio spirito, con tutta la mia forza, delle benedizioni che Tu mi hai dato. Pronunciate questa formula il tempo di un esercizio completo, ispirazione, ritenzione, ispirazione. 2. Potete recitare mentalmente il Padre Nostro durante una respirazione completa. Fate questo esercizio 10 volte di seguito, al mattino, a mezzogiorno e alla sera. 3. Inspirando, pronunciate mentalmente le parole forza, vita, salute, 3 volte di seguito, così anche durante la ritenzione e l'espirazione. Ripetete questo esercizio 10 volte di seguito al mattino, a mezzogiorno e alla sera. 4. Inspirate, pronunciando mentalmente la parola vita. Trattenete l'aria pensando forza ed espirate con la parola salute. Fate questo esercizio lentamente, con calma, in accordo con un ritmo stabile, meditando sulle parole vita, forza e salute. L'energia vivente che rigenera il vostro organismo arriva attraverso la colonna vertebrale. Il midollo spinale possiede la facoltà di assorbire il prana dell'aria e di trasmetterla a tutto l'organismo. Prendete nota delle formule e pronunciatele mentalmente nelle tre fasi della respirazione, inspirazione, ritenzione, espirazione. Esempio 1 Inspirazione Grazie Signore per la vita divina che hai diffuso nell'aria e che riceviamo attraverso l'aria. Ritenzione Io ricevo la vita divina attraverso l'aria, essa penetra tutte le mie cellule e apporta la forza, la vita e la salute. Espirazione Questa vita divina mi rinforza e la manifesto attraverso i miei atti. Attraverso la vita divina si comprende il prana. Occorre immaginare con forza il prana come una goccia che si trasmette da una cellula all'altra, da un organo all'altro e penetra tutto. Esempio 2 Inspirazione Che il nome di Dio sia glorificato in me. Ritenzione Che il regno di Dio e la sua giustizia si stabiliscano in me. Espirazione Che sia fatta la volontà di Dio. Potete fare questo esercizio cinque volte inspirando attraverso la narice destra ed espirando attraverso la sinistra. Poi cinque volte inspirando attraverso la narice sinistra ed espirando attraverso la narice destra. Esempio 3 Inspirazione Signore, ti ringrazio perché vieni in me. Ritenzione Signore, ti ringrazio perché dimori in me. Espirazione Signore, ti ringrazio perché mi dai la tua benedizione. Esempio 4 Inspirate attraverso la narice sinistra, la narice destra è chiusa. Nello stesso tempo pronunciate la formula Solo l'amore divino è amore. Trattenete l'aria un istante e iniziate a respirare pronunciando la stessa formula. Fate questo esercizio tre volte al giorno, il mattino, a mezzogiorno e la sera quando siete ben disposti e quando avete tempo. Ripetete ogni esercizio tre o dieci volte di seguito. Guarigione attraverso il sole L'energia della nostra vita fisica, mentale e anche morale proviene dal sole. È esso che apporta la vita. Solo l'energia solare è in grado di ristabilire la forza e la salute dell'uomo. Non esiste malattia che non possa essere guarita attraverso il sole. I raggi solari rappresentano milioni e milioni di esseri intelligenti che vengono sulla terra come per una spedizione. Ciascuno di questi esseri deposita la propria firma sul viso degli uomini. Il sole è la fonte di energia vivificante per tutto il sistema solare. In rapporto alla terra l'energia solare è positiva. Essa si sviluppa in elettricità positiva e negativa e in magnetismo positivo e negativo. L'energia terrestre è negativa in rapporto al sole. In realtà la terra possiede due tipi di energia ma soprattutto l'energia negativa. Anche il sole possiede queste due energie ma soprattutto l'energia positiva. La vita sulla terra si produce attraverso l'incontro di queste due energie. Il mediatore che collega trasforma queste energie si chiama etere, si spande nello spazio e penetra la terra. Gli spiritualisti lo chiamano plasma vivente, i mistici lo chiamano spirito. Il sole contiene in esso tutti i medicamenti. Nessuna malattia resiste all'azione dei suoi raggi. Per curarsi l'uomo deve fare passare i raggi solari attraverso differenti prismi, sia materiali sia immaginati dal suo mentale. L'energia solare discende sulla terra come un largo flusso, l'avvolge dal polo nord al polo sud e ritorna verso il sole. Essa si trasmette alle piante attraverso il plasma creatore della vita. Quando le piante risentono la manifestazione di questa energia potenziale, esse si preparano e iniziano a formare dei boccioli. Quando l'energia si intensifica, esse sbocciano sforzandosi di assimilarla totalmente per farla fruttificare. Se l'uomo constata che il suo organismo è privo di una particolare energia, se egli è risvegliato, la cerca nel sole, sa che il sole può dargli tutta l'energia che gli manca. Le energie che la terra riceve dal sole vengono considerevolmente modificate penetrando nelle insenature terrestri poiché queste ultime assorbono tutti gli elementi nutritivi. Restano allora solamente le energie inutilizzabili che, così modificate, non apportano niente per il nostro sviluppo ed è per questo che sono rinviate dalla terra verso lo spazio cosmico. In seguito, attraverso vie specifiche, esse ritornano verso il sole che le rinvia verso il sole centrale per una ulteriore trasformazione e per restituire il loro ritmo iniziale. L'energia che la terra capta dal sole può essere comparata al sangue arterioso e quella che respinge al sangue venoso. Il nostro sole gioca un ruolo di un cuore. Questo ruolo è espresso ancora meglio attraverso il sole centrale. Così come il sangue impuro dei tessuti arriva verso il cuore e da là ritorna verso i polmoni per essere purificato, così le energie terrestri ritornano verso il sole per ritrovare il loro ritmo iniziale. Da mezzanotte a mezzogiorno la terra è negativa, in effetti, in certi luoghi solamente, dunque soprattutto ricettiva. Da mezzogiorno a mezzanotte essa è positiva e dà il massimo. A partire dalla mezzanotte la terra inizia ad inviare nello spazio cosmico l'energia negativa, poi essa riceve dal sole l'energia positiva. Il processo di rigetto dell'energia positiva terrestre verso lo spazio cosmico inizia nel pomeriggio. Quando la terra ne ha respinta sufficientemente essa diviene di nuovo negativa, vale a dire essa riceve soprattutto delle energie. Noi siamo una parte dell'organismo terrestre. Quando quest'ultimo riceve, anche il nostro organismo riceve. È precisamente per questo che i primi raggi del sole agiscono con più intensità poiché in quel momento il nostro organismo è più ricettivo alle loro energie. Il mattino il prana vivificante è sempre più abbondante che a mezzogiorno e l'organismo assorbe le energie positive più potenti fino a mezzogiorno al massimo. Dopo inizia il riflusso che arriva al massimo al calare del sole. Così durante le 24 ore di una giornata l'energia solare passa attraverso i seguenti cicli da mezzanotte a mezzogiorno influsso dell'energia solare con il massimo allevare del sole da mezzogiorno a mezzanotte riflusso delle energie terrestri. Un'ora prima del suo sorgere il sole esercita un'influenza psichica sulle nostre cellule e dà un nuovo impulso per il loro lavoro. È prima del levare del sole che i raggi rifrangendosi attraverso l'atmosfera agiscono soprattutto sul cervello. Al momento del levare del sole essi arrivano in linea diretta e agiscono più sul sistema respiratorio e sulla sensibilità. A mezzogiorno essi esercitano un'influenza sul sistema digestivo. È per questo che la forza curativa dei raggi solari è differente secondo i momenti della giornata. Prima del levare del sole essa va bene per il sistema nervoso e per il cervello al momento del levare del sole per il miglioramento del sistema respiratorio e fra le nove e mezzogiorno per il sistema digestivo. In generale dopo mezzogiorno l'energia solare possiede pochissime proprietà terapeutiche. È il periodo in cui la capacità di assorbimento della terra è la più debole ed è lo stesso per l'organismo umano. Assistere al levare del sole significa legarsi coscientemente ad esso per dare la possibilità alle sue forze di circolare nell'organismo. Se l'uomo riesce a legarsi al sole sul piano fisico simultaneamente egli si lega agli altri due soli al sole del mondo degli spiriti e al sole del mondo divino. Se l'uomo non assiste al levare del sole fisico non può essere in buona salute. Questa legge è conosciuta non solamente dagli esseri umani ma anche da tutti gli esseri viventi. La causa delle bruciature solari è la seguente i nostri pensieri i nostri sentimenti e i nostri desideri producono una specie d'evaporazione che forma un deposito opaco intorno alla terra. È per questo che i raggi solari sono refrattari e bruciano la nostra pelle. Se studiate l'influenza della luce constaterete che in certe ore della giornata i raggi solari sono benefici per la terra principalmente al mattino fino a mezzogiorno. In altre ore questi raggi non sono benefici si chiamano i raggi neri o raggi negativi. Per evitare la loro influenza guardatevi bene dal dormire nel corso della giornata e precisamente quando i raggi solari sono attivi altrimenti vi sentirete maldisposti stanchi lo spirito debole. Ci si può esporre ai raggi solari in tutti i momenti della giornata a condizione di avere lo spirito concentrato positivo ed essere capaci di ricevere solamente i raggi positivi. Concentratevi bene ma fate attenzione a non addormentarvi. Alle vibrazioni nere e negative del sole si mescolano anche le vibrazioni terrestri che agiscono negativamente sull'organismo. Fino a quando non conoscete bene le leggi della riflessione fate attenzione a queste vibrazioni. È per questo che si raccomanda di esporsi al sole nelle ore del mattino e non più tardi. Guardatevi bene dai raggi del pomeriggio. Il miglior momento per il trattamento attraverso i raggi solari è fra le 8 e le 10 del mattino. Quando il tempo è oscuro curatevi nella vostra camera. Per esempio trattate le vostre ferite con l'olio d'oliva o la cipolla ma con il tempo bello esponetele ai raggi solari. Se esiste un buono scambio fra le energie solari e le vostre sarete sempre in buona salute. Solo le persone in buona salute possono capire le idee del nuovo insegnamento. Il Cristo raccomanda il sole come un metodo di guarigione. Dio ha messo il sole nel cielo perché voi riceviate la sua luce e il suo calore ma voi cercate dei medici al fine che vi prescrivano dei trattamenti attraverso la luce artificiale. Quello non è un trattamento. Esponendovi ogni giorno al sole per una mezz'ora ma coscientemente con la partecipazione del vostro pensiero riceverete più che dai rimedi che cercate nei libri e presso i medici. Se siete colpiti da paralisi sia di una gamba o di un braccio se i vostri occhi o la vostra memoria si indeboliscono tutto c'è dovuto all'insufficienza di energia all'insufficienza di circolazione del sangue e degli elementi nutritivi verso questi organi. L'uomo risvegliato e cosciente non dirà è la volontà di Dio ma si metterà al lavoro per procurarsi ciò di cui ha bisogno e accumulerà così dell'energia per guarire. Il fatto di non riuscire ad abbronzarsi mostra una salute difettosa che il sole non può guarire poiché sono necessari dei buoni scambi fra il sole e l'uomo. L'abbronzatura ottenuta mostra che il sole assorbe tutti i vostri residui tutte le impurità della materia densa. Se non ci si abbronza questa materia resta nell'organismo e crea degli stati di malattia. Se ci si abbronza bene mostra che il sole dandovi le sue energie ha posto la sua firma. Il sole non può guarire l'uomo che non possiede oro nel proprio sangue. Tanto oro avete nel sangue tanto ne potete possedere all'esterno. La quantità d'oro esteriore è proporzionale all'oro contenuto nel sangue. Quando il sangue contiene dell'oro il corpo è sano il pensiero è limpido chiaro i sentimenti sono nobili. L'oro è l'energia solare condensata che gli hindu chiamano prana. allevare del sole una decina di minuti sono sufficienti per ricevere ciò che è indispensabile per l'organismo. Non guardate il sole direttamente per più di una decina di secondi poiché rischiate di rovinarvi gli occhi. La sua luce non è cattiva ma troppo è forte per la retina che non è abituata a questa intensità. Sapendo queste cose potrete ricevere dal sole tanta energia e potrete guarire da ogni malattia. Se saprete utilizzare l'energia solare sarete capaci di agire sui chicchi di grano fino a farli crescere grandi come le uova e anche di più se saprete come utilizzare l'energia introdotta nei chicchi di grano quale lavoro potete compiere? Bisogna studiare le energie che vengono dal sole. Nell'essere coscienti che al momento del levare del sole voi ricevete più amore divino e vita divina i raggi solari eserciteranno su di voi una migliore azione terapeutica. Se non siete legati attraverso il pensiero se non siete presenti il levare del sole diventa un processo meccanico che non vi apporterà grandi cose. Il nostro organismo è composto da miliardi di cellule che possiedono come la terra la proprietà di captare i raggi solari di trasformarli e di trattenere solamente il prana necessario alla loro rigenerazione alla loro guarigione. Se siete maldisposti uscite esponete il vostro dorso al sole e riceverete da esso quello che nessun pensiero filosofico potrà darvi. Quando prendete un bagno di sole è preferibile che siate vestiti di bianco o di verde chiaro poiché questi colori sono molto benefici. Ciò che è importante è la traspirazione. Quando volete curarvi attraverso il sole e all'aria aperta per provocare la traspirazione copritevi con un tessuto o un vestito impermeabile. è necessario concentrare il proprio pensiero legarsi alla natura benefica perché essa vi guarisca. I bagni di sole sulle montagne sono da preferire poiché in altitudine il ritmo delle energie solari non è squilibrato dalle nuvole dei pensieri astrali che avvolgono la città. Secondo le stagioni i raggi solari agiscono differentemente. In primavera essi hanno una maggiore capacità curativa poiché la terra negativa li capta meglio. A partire dal 22 marzo la terra diventa poco a poco positiva fino all'estate quando è già assai positiva. Durante questo periodo i raggi solari agiscono più debolmente. Per la rigenerazione la migliore epoca inizia il 22 marzo e continua tutto il mese di aprile e maggio fino al 22 giugno. A partire da quella data la crescita si ferma. Certi giorni di settembre la potenza dell'energia vivente è efficace come quella di maggio. Approfittate dei raggi solari in quel periodo. Constaterete anche la presenza di esseri luminosi attorno a voi. Molte malattie possono curarsi attraverso l'energia solare. Inoltre è provato che esiste un tempo propizio per la guarigione di ogni malattia. Certe sono facilmente eliminate nel mese di maggio altre in giugno luglio eccetera. Fra le 8 e le 9 del mattino l'azione del sole è maggiormente curativa. allevare del sole i raggi sono molto benefici per le persone anemiche. Verso mezzogiorno sono troppo forti e non agiscono bene sull'organismo. Esiste anche una certa angolazione sotto la quale bisogna esporre il dorso per beneficiare al meglio dell'azione solare. Cambiando questa inclinazione non si trarrà vantaggio dall'intelligenza dei raggi solari. Quando si parla del sole non si tratta solamente del sole fisico ma anche del sole spirituale come una manifestazione delle forze dotate di intelligenza come un'espressione degli esseri portatori di amore e saggezza. Nell'avvenire quando gli esseri umani perverranno a questa conoscenza tratteranno le malattie solamente con i raggi solari essi sapranno quali raggi convengono per una determinata malattia o difetto e come servirsene. Sotto l'influenza del sole la coscienza cosmica dell'uomo si risveglia. Le energie che escono dal sole possiedono delle grandi riserve di forze viventi e curative. Se si vuole approfittare di esse coscientemente l'uomo deve esporre il proprio dorso ai raggi del mattino e anche prima del levare del sole. Le energie che egli riceve in quel momento sono uguali alle energie che avrebbe ricevuto esponendosi tutta la giornata al sole. Anche con il tempo nuvoloso potete uscire prima del sorgere del sole concentrare il pensiero meditare rivolgendovi verso di esso. Le nuvole vi impediscono solamente di vedere il sole ma le sue energie vivificanti sono presenti e passano attraverso il tutto. Nessun ostacolo può impedire la penetrazione dei raggi solari. Se soffrite di eczema se iniziate a perdere i capelli se avete i reumatismi se l'addome è gonfio costruitevi una terrazza vetrata esposta al sole naturalmente se ne avete i mezzi denudatevi fino alla vita allungatevi la testa a nord e i piedi a sud per una mezz'ora esponete il petto al sole ma proteggete la testa poi giratevi con la schiena e restate così una mezz'ora potete continuare così alternando il dorso e il petto fino a provocare una buona traspirazione se potete fare 20 30 40 bagni di questo genere tutte le malattie e le indisposizioni scompariranno così potete esporre tutto il vostro corpo permesso che sia prima delle 10 del mattino se questi bagni di sole provocano una reazione sulla vostra colonna vertebrale sul vostro cervello sui vostri polmoni tutto il vostro corpo ne riceverà benefici il cervello è come una pila se inizia a ricevere bene e a riempirsi delle energie solari poi esse si diffonderanno in tutte le parti del corpo che guariranno progressivamente più riceverete la luce solare più aumenterà la vostra dolcezza e si svilupperà il magnetismo quando l'uomo apre le proprie mani le palme faccia al sole tutto il suo corpo può riscaldarsi uscite ogni mattino fra le 7 e le 8 esponete prima il dorso al sud poi un po' a nord e un po' a est dirigete il vostro pensiero verso il Signore e pronunciate la formula Signore illumina il mio intelletto dà la salute a tutti gli esseri umani e con loro anche a me iniziate a pensare alle cose più belle che conoscete facendo questa esperienza per un anno constaterete dei benefici al 99% la buona influenza del sole sull'uomo si esprime attraverso la qualità del proprio sangue arterioso il sole eleva i pensieri e i sentimenti ciò che purifica il sangue certe malattie non si trattano con alcun medicamento ma guariscono sotto l'influenza dolce dei raggi solari per esempio tutti i rigonfiamenti ed escrescenze scompariranno in due o tre mesi quando l'uomo è legato a Dio la luce divina lo penetra le bozze e i tumori si attenuano fino alla loro scomparsa il miglior chirurgo che conosco è la natura i raggi solari esso seziona perfettamente e toglie solamente la carne putrefatta senza toccare quella che è sana se volete curarvi esponete il dorso ai raggi solari molto presto al mattino se volete acquisire la pace interiore esponete il dorso al sole cocente il viso girato verso est vi dico spesso che l'uomo deve imparare a dialogare con la luce avete male di schiena esponetevi al sole pensate alla luce solare a quello che contiene e i dolori scompariranno tutte le malattie dell'intelletto provengono da insufficienza di luce quelle del cuore dà insufficienza di calore quelle dell'anima dà insufficienza di verità una persona che si ammala deve legarsi alle energie del sole e della luna se essa non può farlo direttamente che utilizzi le piante e i minerali capaci di trasformare queste energie esiste una maniera particolare per captare la luce solare non solamente attraverso gli occhi d'altra parte non guardate il sole quando è molto forte ma solamente al suo sorgere pochissime persone sanno utilizzare bene la luce l'aria e l'acqua la maggior parte respira solamente con i polmoni e ignora il corpo astrale e il doppio eterico attraverso i quali si può anche respirare esponete la vostra schiena al sole la vostra indisposizione scomparirà qualsiasi ne sia la causa se essa è dovuta ai pensieri negativi esponete la schiena a sud e il viso a nord avete un raffreddore o avete preso freddo ai piedi allora girate la schiena al sole verso sud se le energie che hanno provocato la vostra indisposizione sono positive esponete il vostro viso a sud e la vostra schiena a nord i raggi solari guariscono tutte le malattie la guarigione attraverso i colori ogni malattia è curabile attraverso i raggi luminosi rossi blu gialli arancio violetto e secondo la malattia si scelga un colore per voi l'importante non è di vivere nei diversi colori ma nelle energie di questi differenti colori colui che vuole trasformare la propria vita deve legarsi alla luce stessa e poi alla sua energia troverete i colori più belli nelle piante essi rappresentano la più grande esposizione artistica sono delle pagine del libro divino la luce esterna visibile è il risultato dei pensieri delle entità superiori esse provengono dai loro occhi per quanto riguarda gli animali essi ricevono la luce che noi proiettiamo gli effetti del colore dipendono dalla loro vibrazione più le vibrazioni di un colore sono intense migliore è il risultato quando siete indisposti bisogna sapere perché in quali colori vi trovate e qual è quello che vi può ristabilire la luce si manifesta attraverso le vibrazioni ma le vibrazioni non sono ancora la luce anche se il pensiero si manifesta attraverso il cervello non è il cervello che crea il pensiero l'uomo riconosce solamente sette colori della luce senza supporre che ne esistono ancora cinque da scoprire sulla terra l'uomo avrebbe la possibilità di vedere dodici colori della luce più numerosi sono i raggi gialli nel cervello più i pensieri dell'uomo sono sani quando il proprio pensiero non è risvegliato l'uomo è privato dei raggi gialli i tre primi raggi dello spettro influenzano la vita psichica i tre successivi influenzano la vita spirituale attraverso la vita spirituale si comprende l'intelligenza risvegliata dell'uomo che comprende la coscienza di ciò che accade in lui nella sua vita fisica prima di ammalarsi ciascuno dovrebbe sottoporsi ai raggi luminosi i sette raggi rappresentano sette mondi dell'intelligenza cosmica ciascuno invia il suo proprio raggio luminoso tutti i sette colori rappresentano lo spettro solare più forte è il colore più vicino a noi è il mondo che esso rappresenta secondo i sette colori dell'arcobaleno si può riconoscere qual è il campo in cui ci dirigiamo qual è il colore dominante sulla terra il verde tutti gli esseri sulla terra sono immersi nel colore verde nello stesso tempo noi siamo legati ai pianeti e al sole così come agli esseri che lo popolano gli scienziati iniziano a comprendere che ogni colore ha un ruolo determinato per esempio il verde è il colore della materia il rosso è un colore attivo è più legato al mondo animale l'arancio è il colore dell'estremo individualismo i colori che corrispondono all'evoluzione degli uomini della nostra epoca sono il blu chiaro e il giallo chiaro d'altra parte il raggio rosso è anche composto di sette sfumature ciascuno con la propria intensità vibratoria e i suoi differenti numeri di vibrazioni l'uomo che possiede un occhio ben sviluppato è in grado di riconoscere le sette differenti sfumature del colore rosso e di utilizzarle coscientemente quando sono negative le sa trasformare in positivo le sfumature dei colori rappresentano un libro da decifrare e interpretare colui che può differenziare le sette sfumature del rosso e utilizzare ciascuna di esse conformemente alle loro proprietà arriverà a un benessere perfetto siete malati? la vostra malattia è dovuta a una insufficienza di luce nel vostro organismo come guarire? ricevendo la luce che è indispensabile ogni malattia guarirà attraverso la luce rossa arancio gialla verde blu indaco violetto si sceglierà il colore in funzione della malattia se soffrite di insufficienza o di un eccesso di luce nel vostro organismo voi siete esposti allo squilibrio che si manifesterà sia sul piano fisico che su quello psichico i sette raggi della luce esistono nei differenti mondi in differenti ottavi ed essi si differenziano attraverso la loro azione e il loro significato nel mondo fisico essi significano una cosa negli altri mondi altre cose nella sua manifestazione bassa dell'ottava la luce rossa esprime nella lotta la violenza degli elementi tutti gli esseri che in una maniera o un'altra hanno una riserva di questa luce nel loro sangue sono estremamente attivi e brutali il freddo è il segno di una quantità di luce debole dietro la luce ordinaria esistono delle energie di una origine più elevata e dietro di esse c'è un'intelligenza il colore rosso puro è in grado di produrre la vita la vitalità e la gioia di vivere il colore puro arancio dona un individualismo nobile al servizio di dio in puro esso provoca il dubbio e l'incredulità il giallo puro apporta l'equilibrio ai sentimenti la pace il silenzio l'intelligenza ma nelle sue manifestazioni inferiori provoca dei sentimenti interessati come la cupidigia il verde puro dà nascita a ogni cosa nella sua espressione inferiore favorisce l'attaccamento alle cose materiali e ai sentimenti di conservazione il blu chiaro limpido dona la fede un'elevazione un ampliamento dei sentimenti fino ai più sublimi se manca di purezza apporta dei dubbi la vanità il colore blu mare apporta la calma la solidità la stabilità la determinazione nella sua sfumatura impura l'instabilità il violetto puro è legato alla forza dello spirito necessario per realizzare degli scopi superiori nella sua espressione impura questa forza è utilizzata per degli interessi personali la luce parla l'uomo simultaneamente in sette lingue differenti che corrispondono ai sette colori della luce colui che comprende tutte queste lingue è in buona salute onnisciente pieno di forza il malato l'ignorante il debole possono guarire attraverso i raggi della luce poiché ciascuno di loro è legato alle energie specifiche dell'organismo umano così il raggio rosso è in rapporto con le energie del cuore l'arancio con le energie dell'intelletto il verde con le energie della volontà il giallo con le energie dell'anima il blu con le potenze le forze del cielo il violetto con le forze dello spirito molte persone soffrono e sono dipendenti da droghe alcol vino tabacco eccetera nella vita psichica esistono anche delle cose inebrianti come certi pensieri e sentimenti che hanno lo stesso effetto dell'alcol colui che non li distingue li assorbe e si ammala soffre fino al momento in cui si libera di essi qualche volta la causa delle malattie è causata semplicemente dalla mancanza di un certo colore nell'uomo se gli manca il colore rosso dell'amore il giallo della saggezza o il blu della verità si ammalerà sicuramente i colori possono essere portati nell'organismo fisico così come in quello psichico più l'uomo è intelligente più la sua luce è chiara se diminuisce la sua intelligenza la sua luce si tinge di una sfumatura bluastra poi di una sfumatura debole e giallastra e così di seguito attraverso il colore si giudica il livello dell'intelligenza umana quando considerate il cuore dove è situato il centro dell'amore vedete un colore di una sfumatura rosa molto dolce allo stesso tempo si distacca una irradiazione di un colore gradevole e dolce infine perciò che è la volontà emana dall'uomo una luce bianca che è il colore della virtù fra i tre colori principali il brillante il bianco e il rosa si interpenetrano gli altri colori questo insieme di colori è chiamata l'aura umana attraverso la quale il chiaroveggente riconosce il livello di sviluppo spirituale e intellettuale dell'uomo il colore rosso agisce sull'aura dell'uomo e lo rende attivo l'arancio influenza la vita privata e rende l'uomo individualista il giallo apporta lo spazio e la calma all'intelletto diventando sempre più cupi i colori cambiano la loro specificità per esempio il blu può essere considerato come la base della vita spirituale ma il blu cupo incita alla tristezza e favorisce le preoccupazioni dell'anima i colori chiari giallo chiaro e blu chiaro calmano il sistema nervoso il colore verde lega alla crescita regolarizza le correnti magnetiche ed elettriche nell'organismo umano colui che vuole crescere essere in buona salute deve legarsi al colore verde il violetto è in rapporto con la volontà ecco cosa raccomando per la guarigione e il ringiovanimento acquistate un prisma di una lunghezza di mezzo metro e 20 centimetri di larghezza installatelo nella vostra stanza e concentrate la vostra attenzione su un colore secondo la vostra malattia se soffrite di anemia isolate mentalmente il colore rosso dello spettro e impegnatevi su di essa per una decina di giorni se il vostro stomaco è disturbato prendete il colore verde dello spettro se lo è il vostro sistema nervoso concentratevi sul colore blu i colori della luce hanno il potere di guarire tutte le malattie lavorate con i colori con le loro differenti sfumature come dei metodi adatti a guarire le malattie ma anche a fornire le energie che mancano al vostro organismo non tutti hanno bisogno delle stesse energie è per questo che noi siamo attirati dai differenti colori se non possedete oggetti che vi legano ai rispettivi colori lavorate con il pensiero pronunciando delle parole che risveglino in voi delle immagini che evochino quel colore per esempio se dite blu immaginate sia il blu cupo sia il blu chiaro il colore cupo è quello delle profondità è per questo che esso vi conduce verso il basso verso le vallate della vita il blu chiaro ricorda il cielo le sommità conduce il vostro pensiero molto in alto sulle sommità delle montagne ogni colore provoca degli stati spirituali differenti colui che ha sviluppato una sensibilità troppo acuta soffrirà di nevrastenia deve utilizzare il colore blu della luce riversando mentalmente ogni mattino sulla propria testa il proprio petto e il proprio stomaco dei raggi luminosi blu in generale l'uomo deve dirigere verso i propri organi dei raggi luminosi colorati per equilibrare le correnti energetiche poiché in certi punti dell'organismo si producono dei blocchi d'energia che portano delle anomalie dunque lavorate riversando sul corpo dei raggi luminosi sia blu sia gialli o altri li si può ricevere dal sole ma bisogna prima impiegare il prisma con l'aiuto del quale si otterranno i colori puri dello spettro sul muro in seguito si concentrerà l'attenzione per esempio sul colore blu e si cercherà di introdurlo in sé poi si chiuderanno gli occhi per cercare di visualizzare quel colore al fine di impregnarne il cervello dopo aver fatto più esercizi di questo genere si potrà attraverso la propria volontà riprodurre il colore scelto e arrivare a guarirsi facendo tutte queste esperienze all'inizio constaterete una grande oscurità nel vostro cervello dopo poco come su uno schermo apparirà come un'alba che si leva all'orizzonte una piccola luce apparirà nel vostro cervello e crescerà a poco a poco fino a divenire così intensa che sarà capace di guarire la malattia la purezza è il miglior rimedio contro tutte le malattie la tonalità principale alla base della vita il rosso non può acquisirsi altrimenti che attraverso la purezza che è il suo conduttore il colore rosso apporta i materiali che servono a fondare la vita il colore rosso visibile è solamente un'ombra della vera luce rossa il rosso dell'arcobaleno non è ancora il colore rosso di base il rosso vi apporterà la gioia la luce la forza se potete captarlo otterrete un apporto considerevole delle forze benefiche la luce rossa portata nell'organismo di un anemico contribuisce alla moltiplicazione dei propri globuli rossi e all'aumento della sua vitalità introducete la luce arancio nell'uomo ed egli diventerà indipendente inizierà a pensare liberamente introducete il verde incomincerà a costruire a creare in ogni colore la natura ha nascosto un tipo di forze ben particolari sapendo ciò l'uomo risvegliato può acquisire quelle che gli mancano attraverso la luce arancio si può riuscire a dare al proprio viso un'espressione bella e sana non esiste migliore cosmetico dell'azione della luce rossa sull'organismo non vi sono mezzi più semplici e più naturali del colore rosso per migliorare lo stato di salute ed acquisire la vitalità per contro il rosso sulle labbra le creme le ciprie ostruiscono i pori atrofizzano le cellule e le danneggiano si possono utilizzare certe polveri solamente sulla pelle irritata di un neonato ma non su quella di un uomo in buona salute il viso deve essere bello espressivo e luminoso fino a quando l'uomo non perviene ad inserire la luce rossa è esposto a molteplici stati di malattia se non è adatto a ricevere la luce arancio perde la propria autonomia se non riceve la luce verde la sua crescita si arresta una cattiva ricezione della luce gialla blocca l'evoluzione mentale nello stesso modo quando la luce blu si riceve male la comprensione spirituale ne è deformata la mancanza di violetto provoca la perdita della forza di volontà il colore bianco che è alla base della buona salute apporta il benessere nell'uomo mentre il colore nero porta degli stati negativi il pessimismo quando un uomo è malato deve vestirsi di bianco che cambi spesso i colori poiché essi danno movimento alla vita e influenzano in una maniera differente si devono utilizzare tutte le tonalità della gamma dei colori inoltre bisogna sapere quanto tempo restare nella vibrazione di ogni colore poiché superando il tempo necessario in un colore si rischia di provocare una certa saturazione il nero è il colore del riposo della concentrazione dopo aver lavorato tutta la giornata l'uomo deve racchiudersi in se stesso e non dare nulla all'esterno di sé il nero non è un cattivo colore dal punto di vista psicologico esso può avere un'azione benefica poiché esso preserva le energie quando qualcuno è molto nervoso gli si raccomanda di portare dei vestiti neri per non disperdere le proprie energie è bene fare portare dei vestiti bianchi ai bambini perché essi possiedono molta energia che proiettano attorno a loro se il cuore è malato se il pensiero è perturbato per instaurare l'equilibrio fate penetrare il raggio rosso nell'organismo in caso di squilibrio del fegato bisogna saper introdurre il raggio verde tutti i colori possono essere captati attraverso il prisma dietro ogni raggio luminoso si nasconde una forza dello spirito della natura se la luce rossa è in eccesso e mancano gli altri colori l'uomo è predisposto alla collera quando si soffre di mal di testa degli occhi reumatismi e altre malattie fare delle esperienze con i raggi luminosi per constatare come essi agiscono sull'organismo esistono numerosi modi per guarire le malattie ma la guarigione attraverso i raggi luminosi è una delle più efficaci volete liberarvi di un certo difetto fate passare attraverso il vostro cervello i colori luminosi rosa e giallo i colori brillanti luminosi come per esempio il blu chiaro e il giallo chiaro calmano il sistema nervoso il verde luminoso regolarizza le correnti magnetiche ed elettriche sia nella natura che nell'organismo umano la paura è una debolezza che proviene dall'intelligenza inferiore se essa è molto forte in qualcuno per guarirsi si raccomanda l'utilizzo del colore arancio come mezzo di armonizzazione delle forze siete scoraggiati in uno stato di confusione mentale utilizzate il colore giallo fate uscire il raggio giallo dal prisma e cercate di sentire che brilla nel vostro intelletto il blu apporta la calma il blu cielo è particolarmente benefico sul sistema nervoso colui la cui fede è debole deve evocare il colore blu per eliminare l'incredulità la forza di carattere proviene dal violetto utilizzate la luce rosa quando siete indisposti e il rosso luminoso per acquisire la salute non si raccomanda di osservare a lungo un colore luminoso in particolare sarebbe bene portare con sé un piccolo blocco notes e nascondere fra le pagine sette fili di seta corrispondenti ai colori dello spettro secondo la vostra indisposizione gettate un colpo d'occhio su uno dei fili colorati in rapporto con essa la natura guarisce attraverso i colori io vi dico questo nello stesso modo come gli esteri umani si vestono con abiti di un determinato colore così ogni sentimento o atto è rivestito di differenti colori hai ascoltato la guarigione attraverso la respirazione e il sole di Peter Deunoff traduzione ed edizione audiolibro 2023 di David De Angelis narrato da Stefano Trillini tutti i diritti sono riservati attraverso il nostro